I segnali di ripresa sono confortanti, ma c'è ancora tanta strada da fare. E' questo in sintesi il quadro dell'economia riminese, secondo semestre 2010, previsioni, primo semestre 2011, che emerge dall'analisi presentata oggi da Confindustria Rimini. Una situazione con indicatori positivi in cui sembrano consolidarsi gli input di ripresa già manifestati nel primo semestre dell'anno. Tuttavia la situazione rimane complicata, con una ripresa lenta e diversificata da azienda ad azienda e da settore a settore. Inoltre non vi è ancora un'inversione di tendenza sul calo dell'occupazione. In crescita sia il fatturato interno, più 6%, che quello estero, più 12%. Per quanto riguarda le previsioni per il primo semestre del 2011, la produzione viene annunciata in aumento dal 37,5% delle imprese del campione, il 51,39% prevede una situazione di stazionarietà e l'11,11% prevede una diminuzione. Situazione che si rispecchia anche negli ordini. L'occupazione resta stazionaria per circa l'80% del campione. Lo studio di Confindustria sottolinea che la domanda interna ancora langue e c'è il problema dei mancati pagamenti che le imprese spesso sono costrette a subire. C'è comunque un clima di maggiore fiducia. L'export cresce, dimostrando la vitalità delle aziende riminesi.